Era appena uscito dal carcere ed una volta rimesso piede in casa ha nuovamente dato in escandescenze, spaccando vasi, sedie ed infine è tornato a minacciare di morte la madre per farsi dare soldi. È successo a Castelfo Cognano dove ieri sera i militari hanno arrestato un 36enne. Il giovane era già finito in manette lo scorso aprile per minacce e maltrattamenti in famiglia e da nemmeno un mese era tornato a casa. I carabinieri della compagnia di Bibiena sono intervenuti ieri sera a seguito della chiamata della madre una sessantenne. Suo figlio infatti in stato di agitazione psicofisica aveva prima rotto mobili e vasi e poi l'aveva minacciata dammi soldi o ti ammazzo le avrebbe detto. Alla vista dei militari il 36enne è iniziata ad inveire contro di loro mentre uno dei carabinieri cercava di calmarlo si è addirittura scagliato contro di lui spingendolo e spintonandolo. Alla fine il 36enne è stato arrestato, il carabinieri aggredito è stato invece ferito ad un braccio ed ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni.